Ehm, quello va a salire lì? Polvere a cura del dragone, di là non c'è niente Ehm, il c'è un po' Io ho scherzato Non voglio guardare se mi si curava Non capisco Come cavolo è sta cosa? Adesso ho capito perché sono stati uccisi Questi qua Sono stati uccisi da questa qua Danni impersonanti L'attacca mi colpisce attraverso le cose Non lo so Il tempismo di questa qua Non ho ben chiaro Intanto abbiamo già appassionato Apparecchio da Non lo so 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 Ma che cavolo Grazie perché loro hanno i colpi che attraversano le cose. Se lasciamo in fazza. Nessun danno allo stesso. Che cavolo di danni. Che t'ho preso stavolta. Urati. L'avevo scherciato nel frattempo ma non mi fregava niente. Ok. Uno di tre. Sto però. Sto però. Sto però. Sto però. Ok, vabbè, vabbè, un attimo. La bandina è fatto lì. Un po' di ragni. Un po' di ragni. Un po' di ragni. Un po' di ragni. Ok, il posto... oh, è là. Questo minchetto. Un po' di ragni. 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 Oh, io trovo pressoché inutili questi qua rispetto a un pacce davanti Sto aspettando una pece ma questi fanno una Non c'era niente Ah, qua c'erano quelli lì, oh infernali Ah, ecco Guarda il problema La nostra amichetta più feroce di tutte Quattordici Devo cambiare cosa? Avrei dovuto cambiare Lo spirito La bestia Non c'erano Non c'erano E' più complicato Ehi, dicevo, dove c'è ancora la musica? Ok, tutto, no? C'è una tigra lì Ma c'è una cosa da raccogliere, magari? Ok, sì Ok, questi qui bisogna andare... Magari a dove siamo? Eh no, perché... Inclinato di dieci gradi diversi No, va bene A grande mazza Quattro, però Vogliamo andare... E' un'occhiata, un attimo questa qua 2.13 Pioggia di macini ed è in... Come mai? E' in arancia? Questa vorrebbe la pena potenziarla Ok, in arancia A meno che non... Così come promemoria non la mettiamo su qua per esempio Sì, sì... Sì, sì... Sì, sì... Qualcosa altro qua... Ok, c'è volendo... B Ok, c'è volendo... C'è volendo... C'è volendo... C'è volendo... C'è volendo... C'è volendo... Che era in rosso, no? Quanto è? 40... Sì... E' in buonanotte Questo? No... Vabbè... Ah però che danno? C'è... Cos'è... C'è... Che due oltre vecchie mi fai questa danna? Mi fa questo danno... C'è... Un altro che mi vieni a farai questo danno... Grazie a tutti. Andiamo a far partire questo cavolo di cosa che... Cioè magari l'ho sfiorato leggermente da... A le cure no, quello basta sfiorarlo che tanto è... Piatta che il combattimento è comprensibilissimo. Anche se la cosa qua devi fare una cosa che continua a volare... Bello, mi piace quando ci troviamo sempre... Nel angolino con la telecamera... Col buio e con un nemico nero. Andiamo al villaggio. Dobbiamo riportare questo al mio maestro. Perché ha detto di tornare al villaggio? C'è qualcosa da riferire? Andiamo avanti. Ne sono tre ogni volta praticamente. L'ultimo l'ho targettato come extra. Ops... Ripeto mi sembra un po' inutile come ancora però... Forse uno proprio vuole solo vedere la storia principale, l'episodio principale... Sa che gli extra sono... Cosa in più però vabbè... Non è sempre... Questa cosa degli extra era andata applicata con Xenoblade Chronicles 2... In cui extra era un po' il farming alla fine no? Perché magari vado in una zona nuova... Per farmare... Però magari uno vuole vedere la zona nuova. Se è un farming solo in zona già vista allora... Ovviamente non serve. Però... Ok, ciao ciao! Tra l'altro! Si, potevamo tornare la villaggio, non c'è. Vediamo una cosa un attimo, mi piace... Io so che ho rinforzi, chiamo uno? Quindi non è un casino... Uno è arrivato al famoso 6, eccolo qua... E' proprio ciao ciao! E' al famoso 5, qui perché è al 6 adesso... Musa colpa della cordialità... Cosa fa? Fa salire il giuramento? Non mi ricordo... Facciamo una cosa così... Tanto possiamo tornare qua in un attimo... Andiamo a potenziare... La matta... Adesso un po' che non la uso... Il suo maestro è questo? C'è una cosa da dire? Cosa mi è? Io davvero... Sono davvero davvero indiettivo... Tutto in mezzo... Tutto in mezzo... Tutto in mezzo... Siamo tutti felici... E' tutti... E' stato felice... Se qualcosa così succede... Di nuovo... Io conoscerò solo... Una persona... Che chiamare... Questo martello qua... Costa... Tantissimo... Mi dà quasi il dubbio che sia... Oggetto missione... Qualcosa che tu devi comprare... Non per usarlo in sé... Ma per darlo a qualcuno tipo... Anche in sé... C'erano cose del genere... Ripeto... Faccio prima... A finire il gioco... Che... Sperare che questi... Mi facciano la peggio... Per le performance... Potrei usare un po' di dormire... Potremmo sto lavorando... Per il 58... Per il 58... E' una cosa che dovrebbeوا... Prima di fare... Non bisogna collaborare... Anche nelle altre statistiche... Ovviamente... Non è qui... Vabbè potenzia anche questo Ah tra l'altro che sto l'anno in giro Sì in effetti non ho più cambiato armatura Allora Tipo potenza Abominamento che fa male Per difesa Pregato il pantalone Proviamo a mettere questo Poi siamo voluti 140 Diciamo che è meglio avere più statistiche Più effetti speciali possibile Arrivano a 6 Si deve essere anche Probabilmente livello 5 Da qualche parte Oppure magari con New Game Plus Non so Allora Questo Questo è 3 Resistenza a ghiaccio Allora Ci vuol poco Relativamente Non so Non è ottimizzato per gli SSD Non è ottimizzato punto Non è ottimizzato Non è ottimizzato Non è che è andato a vedere Che dice ho sentito un rumore a mia spalla Non è così Lui ha fatto la sua Questo qua è verticale così Vabbè Ehi Dunque io ne so Non gusto a fare Dei colori Ah no questo non è niente Dei colori Non c'è un sintai Al cuis Che casino Che casino sta internazionata Alla fine è un po' per effetti speciali eccetera Per la luminosità Per esempio No Qua Ecco questo qua Per esempio hai vestito di viola Sul fondo viola Per dirne una Se la mettevano lì in mezzo Si quindi la fatica Dico l'auto aim è spento Tanto per specificare Ah vabbè perché Allora io Cioè io non so Quella là ci colpisce con la coda Da Dislivello E attraverso Questo qua Non potevo colpirlo qua Non si può Perché Visivamente ci passa Però in realtà non si può Grazie a telecamera Non lo andiamo Non lo andiamo Guarda Non lo andiamo Allora Ah basta Non lo andiamo più Non lo andiamo più Anche lì Non ci passa Andiamo su Ah qui è sempre fretta A reagire Quello lì 13 Vabbè Ce n'è ancora qualcuno Qua Uno di cinque Ma trovo Se non c'è Un forziere rosso Perché questi Sono capaci di mettere Un forziere rosso Tra Tra i barili rossi Ops Vabbè Comunque Andiamo a fare questo Gli ultimi due giorni E sono leggermente migliorata Di nuovo Come il problema Un pochino Mi fa piacere Perché in realtà Come è che è andata in crisi Pazzesca Mattina È andata abbastanza bene Il pomeriggio Non ho potuto registrare nulla Perché ero in coma Completo Sì è stato anche lunedì Però Le ultime Vorrei che siano le ultime parole famose Perché quando lo dico dopo Inizia la crisi Andiamo qua Però possiamo dire Stiamo ancora Le palle Ah È la ricerca Ovvio Ok Scusate Vabbè Questa roba viola? 19. Già questo l'ho sempre compreso poco. Questi qui hanno sempre legame in giuramento 7. Sono abbastanza fragili ai critici. Questa roba viola? non c'è altro ma a parte lo sacchiotto